Una donna che naviga con il ferro da stiro al posto del mouse e ragazze che usano DVD come specchietti. Immagini tese a denigrare il rapporto donna-nuove tecnologie. Scatti rubati o costruiti ad arte dal popolo maschile, sovrano del web, per ribadire la propria supremazia anche nel mondo virtuale. Eppure la più celebre hacker del mondo è donna. Si chiama Lisbeth Salander ed è la protagonista della trilogia Uomini che odiano le donne di Larsen. Di certo, con il corso presentato stamattina dalla consigliera Palma del Zompo, non si forgeranno delle novelle pirate del web, ma quantomeno tante donne, specie quelle un po' più là con gli anni, potranno apprendere i precetti di internet e del mondo digitale. L'iniziativa dal titolo Donne, Internet e Social Network, Istruzioni per l'Uso, si terrà con la collaborazione della dottoressa Eleonora Camaioni e dell'Università di Macerata. I posti disponibili sono 40, saranno organizzati due gruppi da 20 e i corsi prenderanno il via martedì 18 gennaio, mentre le domande dovranno pervenire entro lunedì 10. Sono praticamente i nuovi linguaggi che spesso a volte ci trovano poco preparati, perlomeno chi non appartiene alle nuove generazioni e non è più giovanissimo. E allora è utile colmare quello che si chiama normalmente e comunemente il Digital Divide, cioè questo divario praticamente di accesso alle nuove tecnologie, che spesso proprio vede le donne e anche le persone non più giovanissime, donne e uomini che siano naturalmente, nei confronti appunto di queste nuove armi, diciamo così. Sono delle armi che ci servono per decodificare la nostra società. Grazie.